Pedemontana Veneta, l'opera non si ferma al punto che oggi il presidente Zaia ha ipotizzato una data. La possiamo ultimare in tre anni, sono difficoltà nel closing finanziario, quindi stiamo cercando di lavorare con un'ottima collaborazione con il governo, con i ministeri, in particolare il modo di infrastrutture e delle finanze, Cassa Depositi e Prestiti per trovare la quadra, come si dice, e riuscire a partire velocemente questi cantieri e chiuderla questa infrastruttura. Anche oggi il governatore Zaia ha sottolineato come più che una strada questa sia una responsabilità verso tutti e per primi i Veneti. La responsabilità è quella di 95 chilometri, 16 caselli, 35 comuni e 2 miliardi e mezzo di opere. Questione di bilanci e investimenti, con il ricalcolo dei flussi di traffico e quindi in quanto tempo si passerà una volta operativa dai debiti ai ricavi. C'è una disponibilità in generale a trovare una soluzione, perché il problema ce l'ha la regione per conto di Veneti che deve avere finita questa infrastruttura, ce l'ha il governo che è autorità vigilante, che comunque è identificato come questa infrastruttura, che ha avuto un commissario di governo per anni, proprio perché è un'infrastruttura strategica. Ce l'ha l'impresa perché deve finire l'opera e quindi penso che gli interessi collimino e basterà trovare una soluzione, che sia una soluzione accettabile e che faccia in modo che i Veneti abbiano questa infrastruttura.